Ciao raga, come state? Tutto bene? Siamo quasi in partenza per l'Egitto E quindi oggi voglio farvi vedere Come mi sto preparando per questa partenza Ed eccoci qua! Mi raccomando, questo sarà un doppio appuntamento Perché in questo video vedrete quello che metto io nella mia valigia Un maschio Nel suo video, che è appena uscito Vedrete quello che mette lei nella sua valigia Alcune cose le dovrò mettere nella sua valigia Perché io parto con uno zaino Perché Cucu? Cucu, Cucu, Cucu Non sa fare le valigie, ha bisogno di Cucu No, no Sì dai, mi hai chiesto aiuto Io qua ho già preparato un po' di cose Come potete vedere Che mi porterò, ora ve le faccio vedere lì Ho acquistato altre cose Che ora ve le faccio vedere Questo qua praticamente è il mio zaino Io parto sempre con questo È della North Face, mi trovo super comodo Perché oltre ad avere un miliardo di tasche Lo puoi portare così Vedi, lo puoi portare così Insomma è comodo E poi ha tantissime tasche e i vestiti Guardate, vi faccio vedere Perché in tanti me l'hanno chiesto Ma che zaino usi quando vai in giro? Quello della North Face Perché sono i migliori Ce l'ho da anni E le cerniere non si sono ancora inceppate Aspetta Queen Non abbaiare Ecco Questa parte è fondamentale Perché qua dentro è come un trolley Se vedete Cioè qua i vestiti stanno ben piegati Poi chiudi E ce ne stanno tantissimi E quindi io con questo Mi trovo stracomodo E passa come trolley Infatti noi abbiamo preso Una valigia anche a mano Abbiamo preso una valigia grande E una valigia a mano Che sarà questa Oltre la borsetta che porterò Quella è la valigia che porteremo Donna che cosino Poi porterò questi costumi Pensavo di portarne Boh quattro Fammi rivedere tutti questi costumi Allora questo Bello Poi Sì Questo non lo metti mai Ma l'ho ritrovato ora Perché è questo Questo L'ho trovato io quello lì Sì questo l'ho messo miliardi di volte Ma va bene È molto guaiano È quello più colorato E poi questo da bagnino Che così se qualcuno sta per Affogare Aiuto Aiuto Sto affogando Sto affogando Sto affogando Via Perché si vede Ma perché mi deve Tre ore a piegare Perché mi deve subito limonare Non mi era una limonata Ti stavo salvando Vai fammi vedere Poi Maietta Calvin Klein Bianca Bianca C'è un piegato cifro a piegarla A parte che dovrà ristirare tutto Un'altra Calvin Klein Dovrebbe farti da sponsor Calvin Klein Tutto Calvin Klein Calvin Klein Adidas E Adidas Però se ne ho deciso Una l'altra Allora posso farti Posso dirti una cosa Cosa Un mio segreto Dimmi Allora Il mio segreto Per la valigia Che poi vedrete nel mio video Quindi mi raccomando Andate a vederlo E fare gli outfit Cioè Questa maglietta La metto solo con questo pantalone E la unisco Non sarà mai così Anche perché Le cose che portate voi donne Che guarda Vi faccio vedere Ma che cosa c'entra Ma che cos'è questa roba È mio È mio È mio Aspetta Le cose che portate voi donne Guarda come diventano piccole Cioè tu li puoi mettere E diventano delle cose minuscole Sì Mentre quelle degli uomini Guarda già quanto spazio occupano Dai va bene Quindi è impossibile Vabbè Poi camicia con le palme Camicia con le palme Polo Sì Della grutter bridge Poi pantaloncini Neri Bello Pantaloncini verdognoli Sì Hai più outfit tu che io Fai tu Ma davvero Sì Poi mutande Calze Ancora le devo organizzare E passiamo alle cose che ho utilizzato Scusate no Queste ve le devo fare vedere Le mutande con l'astronave Dai lasciami stare No con l'astronauta La mutanda con l'astronauta Lo space shuttle Deadpool Deadpool E poi Schizzi Poi Oggi ho comprato un portafoglio Ero Non avevo un portafoglio E quindi Userò In realtà ce l'avevi che te l'ha regalato Antonino E quindi ne ho preso uno Devo strappare o lo devo tagliare Quale tagliare Ma si Prova anche a strapparli Vanno bene Strappa Strappa Questo che cosa Strappo io Dammi a me No no io voglio strappare No ma così non si strappa quel pezzo Solo quello lungo devi strappare Ah sì Ah sì Non riesce a strappare Oh cacchio Non so perché non si vede più Ah sì ecco Ok E questo è il mio nuovo portafoglio da viaggio Bello dai Bello Sì L'ha preso da Pull&Bear Poi oggi ho comprato questi pantaloncini Troppo belli Perché guardate Hanno il laccetto così E poi hanno questa cosa Bello No Vien lo amo Troppo strano Aspetta che te li provo Arrivo Dici che è troppo esagerato questo No no è bello Ovviamente non con questa maglia No no Questo va sfoggiato a petto nudo No però bello No mi piace troppo È troppo adventure Bello 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 Eccola la nostra avventuriera Amelie amore Ciao patatine della mia vita Siamo abbinati Dai guarda Sì Marroncini Va bene Poi Oggi Abbiamo comprato dell'acqua No questa è la mia Che devo bere Poi ho comprato Da 3S Le ciabatte Ah le havaiana Belle Quelle che ti ho fatto comprare io Belle no? Sì bellissime Guardate che belle Nere e rosse 9 Poi Ho preso questa camicia Questa l'ho fatta comprare io Questa è bella Questa è proprio bella Ora ve la provo Che così ve la faccio vedere Sì ma dovresti già mettere Tutte le robe in valigia In teoria In che senso? Il video è così Tutto quello che metti in valigia Eh Poi prendo Faccio una palla E metto in valigia Questa è così Bella Ok Sì Poi Ho preso Sai che sta bene Poi in questi pantaloncini? Sì È vero Perfetto Va stirata eh Poi ho preso dei pantaloni bianchi Molto leggeri Per fare le foto Sotto le piramidi Un po' alla Aladin Perché ridi? Mi fai ridere tu È perché ne ho visto Più interesse Con le foto Quindi ho detto Ma sì facciamo Ok Poi ho preso altri pantaloni lunghi Perché da quanto abbiamo letto Là in Egitto Nei ristoranti Soprattutto la sera Bisogna andare con i pantaloni In molti luoghi Vogliono i pantaloni E anche la donna Vogliono la gonna lunga Però è un tessuto Molto leggero raga Ho preso dei calzini Belli Calzini Pagati tipo 3 euro Da Primark Sì E sono 5 paia E poi niente Devo cercarmi altri outfit Perché Secondo me È finito tutto quello che hai comprato? Eh sì Allora va benissimo Mancano t-shirt No di certo ne hai Ah perché tu dici 15 giorni È quello secondo me Allora poi Abbiamo comprato due maschere così Ci sarà anche nel mio video questa Ah è vero Per fare snorkeling Apri la Fa vedere come ti sta Ed è bellissima Perché comunque ti copre tutto il viso Questa Guarda Vanno levate Vanno levate tutte le etichette da tutto Perché? Eh perché sennò pensano che facciamo Contrabbando di robe Ah sì? E ti fanno pagare la dogana E le diamole Va levate da tutto Anche da questi pantaloni Cosa e tutto? Tutto Tutto E questa raga è la tecnologia Che mi porterò dietro Vabbè il cellulare Sempre in tasca Il GorillaPod Che cos'è un mini cavalletto Che posso attaccare Usare ovunque La Canon G7X Perfetta Ormai sta diventando Un piccolo cimeglio Guardate Il Mac Per continuare ad editare Powerbank E poi l'astuccetto GoPro Con dentro Tantissime SD Batterie La GoPro 8 Il portacellulare E qua dentro Metterò Cavi Cavettini E altre cose E questo E poi questo sarà Ma questo Zanno Lo tieni te No? Eh? Lo terei te Sì Lo metto nella borsa Ah sì? Perché secondo me È utile portarsi dietro Anche la borsa No Tu vuole portarti dietro Anche la borsa E così ti occupa tanto Secondo me è meglio Tenere un piatto Allora Piatto? Ok Lo metto in valigia piatto Speriamo Dobbiamo calcolare il peso E niente Volevo portarmi dietro Anche il drone E so che in Egitto Ci sono tantissime restrizioni Quindi vorrei evitare Di essere arrestato E di avere problemi E poi E di chiamare l'ambasciata Sinceramente Raga Voglio godermi un po' La vacanza Usciranno dei vlog Usciranno dei video Ma voglio godermi Assolutamente la vacanza Grazie a tutti